Confindustria Noi siamo soci Confindustria da oltre 20 anni. Io mi sono iscritta a Confindustria sette anni fa. Da più o meno tre anni. Perché iscriversi in Confindustria? Per fare squadra, per interagire con gli altri imprenditori e vincere le sfide del prossimo futuro insieme. Confindustria è un terreno di dialogo e di confronto ineguagliabile. Ti dà l'opportunità di relazionarti con gli altri imprenditori e con la categoria. Insieme si cresce meglio e si cresce più forti. E attraverso il dialogo potremo crescere, confrontarci, capire che non siamo soli. Grazie a Confindustria si può andare ben oltre i limiti delle proprie aziende. Alzarsi di livello, guardare tutto dall'alto, vedere oltre che i propri e anche i problemi degli altri o le opportunità che magari non riesci a cogliere da solo. Più siamo, più la nostra voce diventa importante. Non è importante vincere da soli, ma è importante vincere tutti insieme. E Confindustria ti aiuta molto in questo. Insieme si va più lontano. Tutto questo è Confindustria ed è per questo che noi abbiamo aderito in maniera convinta. E stiamo cercando di trasmettere la passione a chi non è ancora iscritto. Che cosa aspettate?